Il mio gruppo ha aderito a questa proposta che è venuta da Francesca Ferenquellucci, che è la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle di Pesaro, che ha lanciato un'ennesima petizione contro l'ospedale unico, soprattutto adesso perché sono emersi altri dettagli, come per esempio il costo che avrà questa nuova costruzione, che è di un miliardo di euro di project financing in 30 anni. Già altri problemi si sapevano quali fossero, perché abbiamo uno studio di fattibilità del 2014 che indica proprio Muraglia come una zona sensibile dal punto di vista idrogeologico. Non abbiamo una viabilità sufficiente, pensiamo solo ai collegamenti deficitari che ci sono tra Fano e Pesaro. Insomma tutta una serie di problematiche che secondo noi ci portano a dire che a centrare tutti i servizi in un'unica struttura a Muraglia, quindi a sud di Pesaro, non è la soluzione migliore per la nostra sanità. Quindi l'invito che faccio ai nostri concittadini è di raggiungerci ai banchetti che come al solito faremo sotto Palazzo Gabuccini a partire dalle 10 e mezza di mattina di sabato e firmare per aiutarci a bloccare questa operazione.